Attraverso la comunicazione scoprire le bellezze pugliesi, non solo le difficoltà enogastronomiche ma anche le bellezze che questo territorio oltre poco fa ha definito scoprire la Puglia è un percorso sensoriale, è così? Addirittura polisensoriale, nel senso che attraversando le nostre campagne la prima cosa da cui siamo colpiti sono i profumi, i colori, poi magari diamo spazio al tatto vogliamo toccare i nostri moretti a secco, vogliamo toccare i nostri frutti eccetera se questo desiderio viene a noi dobbiamo creare l'appeal giusto per farlo venire a chi sceglie poi la Puglia come metà di vacanza per non farla rimanere soltanto sul confine mare e sole bensì per farli rientrare in un territorio meraviglioso che offre a partire dalle tipicità che vanno non soltanto difese ma valorizzate, messe in vetrina fino alla storia, all'archeologia, a quel tantissimo che abbiamo da dare a tutti i pugliesi e non grazie a tutti